L'angelo è la seconda regionale dell'Antomoleo, la mara si crea Plunzù e si cala tutto sul lì. Sperare in un'altra regione dell'Anna e dell'Anna! stalla volta a poco di nuovo stagna rotta viva 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 i combattimenti sono elementi intuenti viva scelgono le cose a combattere e quando smettere di combattere una maravigio viva quindi noi amatole rispettiamo molto la loro volontà e siamo i primi e siamo i primi a non volere che le bovine si facciano male di fatto in quanto abbiamo fatto il quattro della giuria tanto ad evitare che le bovine si facciano male preservano anche sia gli spettatori e gli alleatori più di credo un grandissimo applauso sia nelle battaglie sia nelle battaglie che nelle battaglie non sono i primi non sono i primi e l'ultima battaglia sardu è il frargerà che va contro il numero 3 e quindi vediamo proprio che le bovine sono i primi sono liberi liberi nel palco di valgostani e oggi possono e si vogliono combattere altrimenti non lo fanno abbiamo finito con la seconda categoria ma passeremo la prima cossinelli sui 660 kg stiamo portando a 16 parti stiamo portando la prima categoria benvenuti a pensare che 20 anni è questa e guida e discusi manca di con poco per i salutaroti sardin la domanda eltta come riportare sono i primi un massimo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti